e mi ha portato fino ad ora un po' di fortuna spero che me ne porti ancora perché mi ha permesso l'accesso a casa Sanremo quest'anno è stata una bellissima esperienza, una bellissima emozione e non passerai, parla di una relazione ma in realtà come dico sempre parla di tutto ciò che in realtà abbiamo nelle relazioni che siano affettive ad amore e che non passano perché in qualche modo o nell'altro non passa ciò che tu dai alle persone anzi resta dentro e in qualche modo ti migliora, per voi non passerai io faccio le ruote davanti a me i tuoi occhi, i tuoi occhi li ho riconosciuti nel mio sangue nei sorrisi, i tuoi signesi sono rimasti qui nei miei mani ed il tempo, il mio tempo è volato via via da ora ed il canto, questo canto vorrei arrivare su te e ora che sono mio e vorrei dirti che non passerai se ora te ne fai il tempo, il tuo tempo lo desideravo già da un po' ogni istante del mio ambiente è un naufragio qui tra i miei sei e nel giorno in cui finisce il vivido spandisce le sogni mie ti confonderò per averti via da mondo averti fino in fondo il nome tuo mi consumerò e ora che sono qui e vorrei dirti che non passerai se ora te ne fai perché tu saranno le ore ma senza far rumore mi accorgerò di un giorno di più ma non ci sarai se ora te ne fai dimmi che anche tu come me vuoi tornare a vivere non voglio ancora amare sorridere e tremare negare la tua pena alla mia ora che sono qui e vorrei dirti che non passerai se ora te ne fai ma non ci sarai se ora te ne fai ma non ci sarai se ora te ne fai grazie 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 applauso al maestro al piano Antonio De Caro fatelo più forte l'applauso grazie grazie grazie